L'obiettivo raggiunto per l'amministrazione comunale. Dopo 20 anni la pulizia e la riapertura dell'ex Lido Livella diventano realtà. Il mare è la nostra più grande risorsa, legata in termini di economia alla pesca e al turismo. La riqualificazione dell'ex Lido Livella è una storia lunga 20 anni. Un punto che abbiamo insedito nel nostro programma quando ci siamo proposti per amministrare questa cittadina. Bene, a meno di due anni dal nostro insediamento siamo riusciti a mantenere quanto detto. Uno dei tratti più belli e suggestivi di Santa Flavia tornerà infatti da quest'estate a disposizione della comunità. I tempi d'oro di questo luogo, sede balneare e rinomata sala ricevimenti giunsero al termine nel 1980, quando fu confiscato per abusivismo. Da allora è rimasto abbandonato e nel completo degrado fino ad oggi. Il mare è un bene di tutti e si deve garantire la pubblica fruizione, soprattutto di questa spiaggia che si può considerare urbana, da sempre frequentata dai cittadini di Santa Flavia e di Porticello. Chiesta e ottenuta l'autorizzazione regionale, adesso l'amministrazione comunale provvederà alla pulizia e riqualificazione della spiaggia, mettendo in sicurezza i passaggi e delimitando le parti pericolanti. Apriremo alla fruizione dei cittadini e dei turisti per l'estate 2024, in attesa che il progetto di riqualificazione dell'Ido Olivella, presentato da Domina Zagarella, che ha vinto una gara regionale per la concessione, acquisisca tutte le autorizzazioni regionali necessarie. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Dopo oltre 20 anni, un alto tratto di costa alla spiaggia dell'Olivella sarà restituita ai nostri concittadini. Un angolo di paradiso che ritorna a splendere, che ritorna alla gente, che ritorna ai turisti come è giusto che sia.